Presentata ufficialmente questa mattina nella Sala Consiglio del Comune della Spezia, la 99esima edizione del Palio del Golfo che si svolgerà da venerdì 2 a lunedì 5 agosto e che si fregia del patrocinio del Ministero del Mare e dell'Enit, così come Blue Festival, costola del Palio, che si svolgerà dal 26 luglio al 1 agosto. Diciamo che come nei compleanni si aspetta il centesimo anno perché per noi è segno di aver raggiunto un risultato importante. Poi, lo diceva anche il Ministro nel corso della conferenza stampa, non è che è l'anno in sé che fa la differenza, però per noi è segno che questa manifestazione ha passato la storia, ha passato le guerre, ha passato il Covid e si ritrova ancora qua più forte e viva che mai. Quindi stiamo lavorando già da anni, abbiamo trovato attenzione da parte di tutte le amministrazioni, di tutti gli enti che ci possono aiutare e che anzi loro stessi si sentono in dovere di farlo proprio perché è giusto festeggiare questo importante momento, importante per la città, per le borgatte e comunque per la nostra storia tradizionale. Nel corso della presentazione è stato conferito al Ministro del Mare Nello Musumeci il riconoscimento di Borgataro ad onore. Che cosa rappresenta per lei ricevere questo riconoscimento? Intanto una forte emozione e sono davvero onorato di averlo ricevuto. Ho manifestato apprezzamento per la tenacia e la perseveranza dei borgatari, quelli veri, che in cento anni, da generazione in generazione, hanno tenuto viva questa manifestazione che è segno di identità, vincolo di appartenenza e una bella testimonianza per la quale ci prepariamo a celebrare i cento anni. L'idea di questo riconoscimento nasce dall'incontro che si è svolto poco meno di un anno fa a Roma presso la Camera dei Deputati con i rappresentanti delle borgate su iniziativa dell'assessore Alpalio e vice sindaco onorevole Maria Grazia Fria e del sindaco Pierluigi Peracchini. Abbiamo la necessità di creare un fancobollo commemorativo. Contatterò il collega Urso, contatterò le poste perché l'evento celebrativo possa essere denso di significato assieme alle tante iniziative che saranno promosse. Se Dio vuole, il prossimo anno io ci sarò. Grazie. Grazie.